A Pieve Santo Stefano si trova un luogo bellissimo incastonato fra le colline dell'Apenino centrale, l'eremo del Cerbaiolo, questa struttura costruita di sopra di antichissime rocce, pensate ci sono rocce sedimentarie e rocce magmatiche, uniche nel proprio genere. Di qua passano tanti pellegrini, tanti escursionisti, non soltanto per attraversare i luoghi cari a San Francesco d'Assisi e per dirigersi verso la Verna e viceversa ma anche per passare delle ore in tranquillità in un contesto ambientale veramente favoloso.